Signore e signori, benvenuti! Noi siamo il Teatro Addondolo. Io sono Michela Burattina e qui al mio fianco c'è Serena Maracas. E lì l'ho vista, Uga, che piangeva sotto un salice piangente. E lì 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 E cercavo una casa, una grotta, un riparo, un riparo, una grotta, una casa, una casa, un riparo, una grotta. Signori, era il mio stomaco. Mi si vede? Mi si vede? Mi si, mi na na, l'uccellin, vola e va. La viscia, la viscia che si ci ha. No, qui la sala da ballo! che profumino è solo qui è solo rana chi mai lo potrà salvar di un incantesimo è prigioniero chi mai lo potrà aiutar chi mai lo potrà baciare chi mai lo potrà